...di Giorno a Tarsuisca, lo so, lo so, gli hai permesso di scrivere un viaggio di Google, sì, un bel romanzo, però anche io l'ho internato, lo sai, ho internato nel centro di comunicazione ma lo so, lo so che si è stato, lo sanno tutti che si è stato compagno di vita di Michelangelo Bonarroti e gli hai permesso di scolpire Mosè, perché? Ma poi Michelangelo l'ha preso a mantellate urlando, perché non parli? Ed era lui che non sentiva, senti, adesso c'è la proposta. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti